buon pomeriggio a tutti da cuccioli allevamenti e da questo bellissimo westino che siamo venuti a trovare lui e i suoi fratellini che sono in svezzamento volevamo farvele conoscere almeno uno eccolo qua vero saluti di e saluti a tutti a cuccioli allevamenti di saluti a tutti cuccioli allevamenti niente è in fase di esplorazione saluti a tutti